Tre punti d'oro per il San Zaccaria nella corsa alla salvezza. La squadra di Fausto Lorenzini batte 3-1 il Como in uno scontro diretto, scavalcandolo in classifica. Le bianco-rosse partono bene ed al 14esimo sfiorano il vantaggio con un tiro cross di Razzolini che accarezza la traversa ed esce sul fondo. Il Como risponde al 25esimo con Postiglione che verticalizza per Ambrosetti, la quale a tu per tu con Dolan calcia fuori. Scampato il pericolo il San Zaccaria passa in vantaggio nell'azione successiva, Razzolini viene stesa in area e rigore che Cimatti trasforma con freddezza. Il primo tempo non regala altre emozioni, si passa al secondo tempo e dopo appena 9 minuti le padrone di casa raddoppiano con Principi che sfrutta l'ottimo lancio della retrovie, parte in contropiede, salta anche Ventura in uscita ed appoggi il pallone nella porta incustodita. Le Larianne non si danno per vinte ed al 61esimo potrebbero riaprire la sua punizione ma è la traversa a salvare le locali, poi sul proseguimento l'azione sfuma. Il San Zaccaria dà l'impressione di poter gestire agevolmente il doppio vantaggio ma al 70esimo si complica la vita da sola, Dolan tarda a rinviare e quando lo fa scarica il pallone su Coppola che rimette in partita il Como. A questo punto la formazione di Giuseppe Gerosa ci crede ma all'81esimo le bianco-rosse la chiudono. Principi fa tutto da sola, poi scarica un tiro verso la porta che si infrange contro le mani di un difensore. Nuovo penalty e nuova trasformazione di Simona Cimatti che realizza così la sua personale doppietta. È il gol che chiude la partita e che vede San Zaccaria battere il Como 3-1.